Hai un'auto vecchia? Vecchissima? Irrecuperabile? I concessionari Lancia chiudono un occhio, anzi tutti e due, e valutano il tuo usato da rottamare, un milione duecento mila lire come minimo, e tu riparti su una fiammante A112 a prezzo bloccato. Ma solo fino al 31 gennaio i concessionari Lancia chiudono un occhio, anzi tutti e due. Attenzione però, anche se hai un usato normale, la A112 ti aspetta a condizioni che ti stupiranno.